No, no, però quando noi lo facciamo, c'è qualcosa che è attraverso l'angolo perché c'è una certezza che riesci, non c'è mai, diciamo che la città non c'è mai, hai buona probabilità perché se hai fallito di accumuli sull'elettone, sull'elettrona, sull'elettrona, cioè perché buona probabilità, il problema è che se invece non riesce la situazione di metterrane, è che mettere l'acqua, va bene, 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 Grazie a tutti